Intanto buongiorno e grazie, come già ho avuto modo di dire, io da oggi mi considero un sannita, un sannita molisano, quindi cercherò di, o meglio, metterò sempre al centro il paziente e intorno al paziente creeremo i percorsi giusti per dare una sanità più importante, più sana probabilmente, ma sicuramente dare la possibilità al paziente utente di trovare soddisfazione nelle cure. In momenti di difficoltà i pazienti hanno necessità di avere vicinanza da parte delle istituzioni e io con un gioco, chiedendo di fare un gioco di squadra a tutti e di mettere al centro questo obiettivo, cercherò di dare priorità alla retra emergenziale, riduzione delle liste di attesa, riorganizzazione di percorsi interni, rivisitazione delle risorse umane, delle loro allocazioni, insomma una serie di possibilità per rendere, quando più fruibile possibile, la sanità molisana. Io sono sempre convinto che in ogni campo, così come anche in sanità, le risorse sono finite, ma quando dico finite non intendo ovviamente terminate, ma intendo confinate, voglio dire che devono essere rivisitate e quelle risorse che noi abbiamo, ancorché finite, cioè confinate in un numero che magari non sarà quello che noi ospichiamo, però cercheremo di ottimizzare tutto in modo da rendere fruibile questa sanità. Ci saranno delle criticità, le supereremo. Il mio cognome mi aiuta, sono di santa.